ciao a tutti e benvenuti sul mio canale allora scusatemi per la mia mano che stavo sistemando il cellulare allora questo qui nuovo video e questa qui è la mia cliente dove ho fatto una copertura su unghia naturale e ha scelto questo bellissimo colore che non è di passione unghie che è un glitter brillantinato insomma come lo vogliamo chiamare viola molto bello e come vedete sto passando la prima passata poi la seconda passata la terza passata e lo metto un po più abbondante insomma per farlo bello coprente perché come vedete come la prima la seconda passata rimane leggermente trasparentino e niente adesso va di modo mi pare i glitter brillantini gel colorati di questo tipo qua brillantinati perché ho avuto anche altri due clienti che hanno voluto fare le unghie brillantinate comunque se l'avete persi potete andare indietro nei miei video lo vedrete e infine niente utilizzato l'ultra gloss di passione unghie lucido l'olio coticole tutto passione unghie e niente io spero che questo video vi piaccia se sarà così metterete parici in su se volete sotto ai video mi commentate io vi saluto vi mando un bacio e ci vediamo presto al prossimo video ciao 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 ciao